Parlando di Cartesio, considerato il padre del metodo scientifico moderno, mi ha sorpreso tantissimo scoprire che quello che l'ha messo in moto nella ricerca di un metodo per riuscire a rendersi intuitivi e quindi capaci di accedere autonomamente al vero, indipendentemente dalle credenze collettive, è stato quello che lui ha definito un rapimento mistico. Un'esperienza in cui Cartesio ha descritto di essersi sentito travolto da una gioia e da un entusiasmo inspiegabile, circondato da lampi di luce che si estendevano all'infinito e quell'esperienza lì che poi è stata seguita da dei sogni molto importanti che lui ha descritto in questo breve trattato che si chiama Olimpica, riuscire attraverso un dubbio assoluto a trascendere ogni propria credenza per annullarsi nella vera essenza di se stessi che viene poi vissuta come esperienza di gioia assoluta.